Concludiamo la nostra giornata con gli amici di Siamo Taranto nella loro raccolta di rifiuti a supporto dell'attività istituzionale e siamo con uno dei volontari, l'ennesima Carriola che scarica l'ennesima quantità di materiali di edilizia Sì, c'è tanto da fare, il problema è che dopo due o tre mesi in genere si riforma Ma forse anche molto prima Sono necessarie telecamere, educazione civica soprattutto Quello dicevo, perché le telecamere, le cosiddette fototrappole servono a beccare in flagranza e a educare questa gente Io, permettete, metterei i rifiuti e l'immagine di questa gente Ma non perché uno voglia, come dire, dare la croce addosso a questi ma perché questa è gente che proprio non ha il minimo senso civico Sì, adesso l'AMI un po' sta seguendo questa politica di pubblicare le foto delle macchine Chissà se non riesca a sensibilizzare anche in questo modo Il problema è che se vedi un posto così sporco tendi a sporcarlo ancora Quello che speriamo è che magari vedendo un posto pulito O anche vedendo il vostro impegno Più di qualcuno dice, ma è giusto, è normale che io debba distruggere la natura E poi questa gente fa tanto per ripristinare un minimo di vivibilità Sì, è la teoria del sindaco di New York Che si diceva, se lasci una finestra rotta di un palazzo Dopo un mese ne trovi altre dieci rotte Se la ripari, magari rimane tutto integro E con questa riflessione, con queste pillole di saggezza Termina il nostro momento di approfondimento con Siamo Taranto Ritorneremo con Siamo Taranto, con altre associazioni Perché è bello difendere l'ambiente È bello supportare il volontariato È bello che ci sia un'azione sinergica tra istituzioni e volontari Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti